Nel frattempo ci ha raggiunto anche il secondo ospite di questa puntata, è con noi la professoressa Giovanna Ceglia, Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica. Grazie nuovamente per essere con noi, professoressa. Allora, non ho il ritorno in studio, quindi chiederei in regia se mi possono attivare il ritorno. Eccoci. Allora, professoressa, io vorrei partire da una notizia. Abbiamo fatto un po' un collage di questi articoli, di giornali degli ultimi giorni, chiedo alla regia anche di mandare queste immagini. È un po' relativa all'ultimo suicidio che c'è stato da parte di una ragazza a Somma Vesuviana, siamo nel napoletano, che ha deciso di farla finita. È stato il terzo suicidio di studenti universitari dall'inizio dell'anno. Qual è l'emergenza? Beh, guardi, questo sì, sono eventi davvero molto tristi e davvero, insomma, colpiscono moltissimo. Io da accademica e da clinica, insomma, registro questi eventi con grandissimo dolore, perché l'università deve essere un luogo di benessere, è un luogo di benessere, è un luogo dove si possono costruire, insomma, i futuri. E quindi vederli spezzati così è veramente molto doloroso. Io credo che l'emergenza, però, sia più un'emergenza sociale, è più che un'emergenza legata al contesto specifico dell'università. Perché, sicuramente, vi dico che c'è un'attenzione ai italiani, chiaramente in alcuni di più, in alcuni di meno, anche dalla popolosità della popolazione accademica, eccetera, un'attenzione al benessere degli studenti che, sicuramente, ve lo dico, 30 anni fa non c'era, assolutamente non c'era. Quindi, se parliamo di ambienti competitivi, come a volte ho letto, insomma, in alcuni articoli, con una pressione eccessiva, eccetera, stanno guardando gli atenei di, probabilmente, 30 anni fa, ma non gli atenei attuali, dove quasi nella maggior parte c'è un servizio psicologico gratuito. Io faccio parte, diciamo, della rete nazionale, di tutti i servizi di cancelling psicologico d'Italia, quindi conosco le realtà di questi spazi di aiuto e di supporto psicologico in tutta Italia e questo 30 anni fa non esisteva. Sono spazi dove si possono rivolgere in modo molto semplice i ragazzi, chiedendo aiuto. Quindi, credo che andrebbe letto, diciamo, il fenomeno inquadrando ambiti e dimensioni più ampie del semplice contesto universitario. Professoressa, lei ricordava bene, appunto, questi servizi di cancelling psicologico ormai attivi in quasi tutte le università italiane, chi non lo attivo comunque lo sta attivando in questi mesi, in queste settimane. Tra l'altro, lei fa parte del servizio del counselling psicologico dell'Università di Foggia, che a breve festeggia anche i suoi primi tre anni, era il 23 marzo del 2020, quando è partito questo servizio, in piena pandemia. E le chiedo, ecco, appunto su questo. Crede che questo disagio percepito da questi ragazzi che, senza colpe, si sentono falliti, senza avere nessun motivo, c'è stata anche una dichiarazione di Lodo Guenzi, cantante dello Stato Sociale, che ha detto io all'università nemmeno ci volevo andare, non si può essere falliti a 19, a 20 anni. Crede che possano essere anche delle conseguenze di quella che è un po' la generazione Covid, di quello che è stato il periodo che questi ragazzi hanno vissuto, fino a qualche anno fa, quando erano appunto a scuola e c'è stata tutta la pandemia? Sicuramente la pandemia ha, come dire, creato un fenomeno, anche, voglio dire, nelle conseguenze, diciamo, di quel momento, che stiamo ancora in qualche modo cercando di comprendere, perché gli effetti sono tanti, sono diversificati, e quindi sicuramente questa dimensione non possiamo escluderla. la sensazione di non riuscire a tenere il ritmo, però le dico che è una sensazione che attraversa forse diverse generazioni, quindi non solo i giovani, hanno anche la pressione, diciamo, del futuro, del lavoro, del mondo, diciamo, dei loro obiettivi, dei loro successi, eccetera, ma attraversa anche gli adulti, cioè tutti, diciamo, hanno un po' la sensazione di arrancare, di aver perso il tempo, d'altro canto il lockdown ha bloccato il mondo quasi per un anno e mezzo, quasi due anni, e che adesso bisogna un po' recuperare, ma facendo, insomma, fatica. Quindi sicuramente è una sensazione che, se andiamo, insomma, ad interpellare, io ho, diciamo, una visione molto intergenerazionale, è una sensazione abbastanza diffusa. Certo, poi, i adolescenti e i giovani adulti sono quelli che hanno magari una resilienza minore, hanno delle fragilità, hanno delle strutture di personalità ancora in qualche modo da definire, e quindi possono trovare in questo disagio, in questi momenti, diciamo, di vulnerabilità, di incertezza, eccetera, a volte un peso che non riescono a reggere. Purtroppo l'aumento dei suicidi in questa fascia d'età, dal lockdown in poi, è aumentata, se non sbaglio, se non sbaglio del 30%, quindi voglio dire in modo significativo. Sì, tra l'altro, per quanto riguarda gli studenti, si parlava nell'ultimo triennio di dieci suicidi, ma in realtà solo nel 2000, adesso 23, ne sono tre, solo nei primi, appena, nei primi tre mesi dall'inizio dell'anno. Professoressa, io la interrompo, ecco, solo per qualche secondo, per uno spot pubblicitario, e poi torniamo per concludere questo bellissimo collegamento, parlando della felicità e di come poter raggiungere la felicità. Le 9.30 minuti e siamo ancora qui in questa puntata di Just Today con la professoressa Giovanna Ceglia, presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica. Professoressa, abbiamo parlato di questa emergenza per quanto riguarda questi ragazzi universitari che decidono di farla finita perché si sentono un fallimento. Spesso si tratta un po' di una paura di deludere le aspettative degli altri. Lì, a proposito di questo, ha parlato di questa paura come un ostacolo alla felicità. Nel corso di un suo intervento, durante un evento pubblico, ha anche in realtà cercato di inquadrare la felicità come se fosse un procedimento, come se fosse un percorso. Ha detto che la felicità è la capacità di godersi la fatica nel trovare una soluzione. Tutto il procedimento, tutto il percorso. Che cosa vuol dire? Qual è effettivamente la vera chiave della felicità? Io intanto vorrei fare una sottolineatura perché l'ho sentito e l'ho letto negli articoli, ma sicuramente lo sento spesso anche nei ragazzi, questa paura del fallimento. Però naturalmente dobbiamo considerare che la paura del fallimento viene dall'ansia del successo. E anche questo è una cosa su cui dobbiamo educare i giovani. Perché che cosa si intende per successo? E quindi, in qualche modo, nel mio TEDx sulla felicità e il coraggio di essere felici, spiego proprio che farsi prendere dall'ansia del successo, pensando che il successo sia soltanto, non so, avere denaro, essere belli, di essere, insomma, avere, come dire, popolarità tra gli altri, che sono adesso un po' le cose che i social media un po' educano ad ottenere, di essere, insomma, pubblici, noti, famosi, belli, insomma, eccetera, eccetera, è un'illusione. Ognuno dovrebbe cercare di cucire su se stesso, in modo del tutto personale, la propria idea di riuscita della propria vita, non di successo, perché la parola successo è una parola pericolosa. Bisogna godere, diciamo, di quello che in qualche modo si riesce a fare ponendosi dei propri obiettivi e non obbedendo agli obiettivi che in qualche modo il momento storico, che cambia di volta in volta, impone. Ognuno dovrebbe avere il coraggio di chiedersi di che cosa ha veramente bisogno, di che cosa ha veramente bisogno in quel momento della sua vita e poi avere tutta la pazienza e anche la capacità di resistenza necessaria per affrontare il percorso che ci porta ad ottenere questi risultati, che non significa non cadere mai. Se noi leggiamo le biografie dei grandi, della storia, della scienza, della letteratura, sono tutte persone straordinarie che hanno avuto momenti no, che hanno avuto cadute, che hanno avuto arresti. Quindi, voglio dire, se li ha avuti Einstein, se li ha avuti Marie Curie, se li hanno avuti i personaggi che sono passati alla storia, se li ha avuti Steve Jobs, beh, possiamo averli anche noi e non è così grave. Diciamo, un po' si parla anche spesso di leopardi, però probabilmente non c'è bisogno ecco di scomodare nemmeno leopardi in queste situazioni. Grazie professoressa per essere stata con noi e termine in realtà proprio con quelle che sono state le sue parole al termine di quell'incontro. Gli aveva detto in realtà alla fine la felicità e il clima che cerchiamo di dare alla nostra esistenza. Allora speriamo che questo suo intervento possa essere veramente d'aiuto per tante persone. La ringrazio nuovamente per essere stata con noi e colgo anche per lei l'occasione di venirci a trovare fisicamente qualche giorno proprio qui nei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Grazie ancora.